Maria De Filippi ha confessato al settimanale Gente, che nel 2012 era stata lei a dire a Emma Marrone che Stefano, De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez, la regina di Mediaset ha dichiarato, chiamai Stefano in camerino e gli chiesi, cosa stai combinando, e lui confessò, De Martino e Belen si erano innamorati ad amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato, e così a Emma lo dissi io, oggi la vincitrice di amici e del festival di Sanremo, Emma Marrone, e singhele anche Stefano De Martino e Belen si sono separati per la seconda volta pochi mesi fa, la celebre presentatrice tv e produttrice ha poi parlato del successo di Temptation Island e del rapporto con l'ex, Geffino e presentatore tv del reality show di Canale 5, Filippo Bisciglia, l'ho conosciuto molti anni fa al circolo del tennis, all'epoca era un giocatore di poker professionista, ma quando nacque Temptation mi sono fissata su di lui, non volevo un conduttore ufficiale.